Positivi fattori della produzione e della Cortona Sviluppo rispetto al 2022 aumentano quasi del 50% i ricavi del Centro Convegni Sant'Agostino. Cresce anche il mattatoio, pressoché stabili anche i ricavi dei servizi istituzionali, ovvero affissioni e cimiteri. Un lancio positivo per il grandissimo lavoro che è stato fatto sia al mattatoio e sia al Centro Convegni Sant'Agostino. Il Centro Convegni Sant'Agostino credo abbia toccato dei record impensabili perché abbiamo avuto un'occupazione sale di circa 688 giornate su 7 sale. Questo significa che in contemporanea siamo riusciti a gestire due eventi nello stesso giorno. Tenete conto che tra le persone avute, le presenze avute all'interno, che per manifestazioni fatte all'esterno, tipo il concerto, siamo quasi a 40.000 persone gestite. Quindi è un successo veramente eccezionale. A far salire gli introiti del settore dedicato a fiere e convegni c'è la novità Cortona Comics. Procacci ne è stato uno degli ideatori. Cortona Comics è veramente il nostro fiore all'occhiello. È una manifestazione che abbiamo voluto fortemente, sulla quale abbiamo lavorato tantissimo. E grazie al risultato ottenuto lo scorso anno siamo già pronti per uscire con l'edizione 2024. La formula sarà sempre la stessa, due fine settimana, per lasciare tutta la settimana intermedia a disposizione delle scuole, della scuola internazionale del Comics. E all'interno della settimana non può che mancare anche l'evento di un concerto con un artista di primo piano. È un bilancio, sono entusiasta, ma lo faccio a nome di tutta l'amministrazione comunale di Cortona, per il bilancio della Cortona Sviluppo. Ringrazio il dottor Fabio Procacci, tutto il team della società in house. Quando avevamo detto che investire nella società avrebbe portato un aumento di fatturato, non solo la minoranza, ma anche una piccolissima parte della maggioranza non ne era convinta. Adesso abbiamo ottenuto un risultato eclatante, che è quello di avere un 31% più di fatturato, sul mattatoio, che vede un trend più o meno mensile di 100.000 euro rifatturato. Siamo davvero orgogliosi. È un aumento importante dell'utilizzo delle sale a Sant'Agostino.